Ciao ragazzi e benvenuti su GasTube Drums. Nel video di oggi come potete vedere insieme a Roland e strumentimusicali.net andiamo a vedere una batteria che non è una sorpresa. Vi ho già detto quale è nel titolo, lo vedete già qui di quale batteria parleremo oggi, quindi non vi devo dire che sorprese eccetera 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 perché si vede già tutto. In realtà però è una sorpresa pazzesca perché sono super super curioso di provare questa batteria che si colloca nella fascia tra virgolette media economica di Roland ma ha già tutto quello che hanno le batterie di fascia molto 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 più in alto. Quindi super curioso di provare questa direi di partire subito con la sigla non ne ho voglia di stare qui a dirvi di iscrivervi al canale eccetera eccetera che però in realtà non sarebbe male ma detto questo partiamo subito con la sigla così almeno andiamo a fare l'unboxing e poi proviamo questa batteria. Dai dai che sono super curioso! Eccoci qui posizionati per l'unboxing direi di andare a prendere il coltello che ormai uso questo ho deciso che uso questo per gli unboxing, incominciamo a vedere che cosa c'è qui dentro e poi andiamo con il paccone gigante, sappiamo già cosa c'è nel paccone gigante ma non fa niente vogliamo vedere bene che cosa c'è ma qui dentro non sapete che cosa c'è quindi vado ad aprire prima questo eccoci qua il primo pacco che ho scartato contiene il pedale di Roland questo è un pedale V-Dram quindi super 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 figo ve lo faccio già vedere vi apro tutto questo non serve ah eccolo qui veramente bellissimo questo pedale satinato grigio satinato quindi la cosa da fare adesso è via questo mamma mia che bello che è questo pedale con tutta la gomma intorno poi dopo vi faccio vedere bene sotto ha tutti questi gommini che gli permettono di molleggiare di fare tutto quello che deve quindi ottimo figata e insieme al pedale c'è anche il suo battente che adesso vi apro così ve lo faccio vedere bene eccolo qui un battente in plastica con scritto Roland non so se si possa vedere ma credo proprio di sì e insieme anche altri due gommini che sono quelli in pratica da mettere sotto al pedale nel caso in cui uno si danneggiasse qui ce ne sono già tantissimi in realtà però ce ne sono anche due aggiuntivi adesso togliamo il pedale che useremo di nuovo dopo e andiamo a scattare questa batteria mille mila pezzi allora con calma facciamo così l'appoggio per terra così vi vedete bene vi tiro fuori un pezzo per volta allora all'interno di questo pacco che cosa c'è per prima cosa ci sono le istruzioni che in realtà di solito non servono ma oggi potrebbero servire perché questa batteria ha un sacco di innovazioni super fighe quindi potrebbero servirci poi allora incominciamo a scattare un po' a caso per vedere che cosa c'è allora per prima cosa pad un'innovazione pazzesca di questa batteria è che tutti i pad sono con pelli mesh quindi molto spesso voi quando avete batterie elettroniche di fascia economica hanno sempre tutti i pad normali quindi quelli in gomma normali questa batteria già ha tutte pelli mesh poi vi spiegherò anche qualcosina delle pelli per farvi capire il perché queste pelli mesh Roland sono una figata quindi primo pad da 8 pollici andiamo avanti qui c'è un altro pad mi sa altro pad sempre da 8 pollici eccolo qui questo qui invece è il rullante un pochettino più grande ovviamente che è da 10 pollici andiamo avanti che cosa troviamo di altro qui c'è allora calma cavetti vari e ovviamente sono i cavetti della centralina eccola qua la centralina V-Dram Roland è leggerissima questa centralina è veramente pazzesca è completamente diversa poi vi spiego anche il perché e quindi andiamo avanti la centralina la lascio qui in realtà qui abbiamo tutto il resto quindi qui dentro ad esempio ci sono i piatti veramente molto belli tra l'altro piatti con il pad solamente da questa parte però la figata è che si vede bene dov'è la parte in cui si può suonare del pad molto molto morbidi secondo me questi pad qua dei piatti saranno molto 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 simili a suonare un piatto normale perché sono veramente super morbidi molto belli anche qui dove si possono stoppare molto 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 belli ovviamente di questi piatti ce ne sono tre Crash, Ride e Charleston ovviamente e poi direi che i punti salienti diciamo li ho presi tutti qui c'è il pedale del Charleston quindi il controllo del Charleston diciamo super sensibile devo dire cacchio che bello e basta per il resto ci sono tubi cose che servono per montare la batteria direi che adesso vado a togliere questa mia batteria acustica e metto la batteria elettronica così poi la proviamo la monto e poi vi spiego magari due o tre cose di montaggio così vedo anche se è semplice se è difficile da montare e tutto un po' di cose che sono molto 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 interessanti quando si parla di una batteria elettronica quindi passiamo direttamente alla batteria quindi questa TD-07KV l'ho montata l'ho montata veramente in pochissimo in pochissimo tempo perché per prima cosa è super semplice da montare per seconda cosa devo dire che è molto 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 robusta devo dire che i tubi diciamo del rack sono veramente veramente molto solidi e quindi appunto montarle è stato semplice perché l'ho messa o avvitato per quanto riguarda il rack ed era già tutto perfettamente a posto poi per quanto riguarda i piatti anche le aste dei piatti devo dire che sono super super solide e semplici da montare poi sono abbastanza leggere anche devo dire quindi ho fatto una cavolata quindi molto 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 anche trasportabili se uno ne avesse bisogno e invece la questione Tom mi è piaciuta molto non è nuova di Roland ma mi è piaciuta molto cioè in pratica al rack si attaccano delle clamp a cui andiamo ad attaccare questa geggino diciamo in pratica questo si aggancia al rack diciamo e poi su questa astina qua invece andiamo ad appoggiare il nostro pad quindi in questo modo qui la cosa bella eccolo qua in questo modo qua la cosa bella è che ci sono anche questi gommini in realtà che sono delle memorie quindi se noi andiamo a posizionare la batteria in un certo modo poi la dobbiamo portare a qualche altra parte dobbiamo andare a suonare in giro dobbiamo andare a suonare con la nostra band a qualche parte che ne so mettiamo la memoria la volta dopo che dobbiamo montare la batteria andiamo attacchiamo questo al rack e abbiamo già la memoria di dove dovrà andare il nostro rullante in questo caso o qualsiasi altro Tom perché comunque le memorie ci sono su qualsiasi tamburo altra cosa due cose in realtà una che riguarda i piatti una che riguarda i tamburi per quanto riguarda i tamburi una cosa che mi ha stupito veramente tantissimo è stato a parte il fatto della presenza delle pelli in mesh su tutta la batteria vi faccio sentire il primo kit così almeno siamo a posto live acoustic e queste pelli mesh ti permettono di avere per prima cosa una dinamica pazzesca prima devo dire che è talmente simile alla normale che quando finisci ti viene anche da fermare le pelli e devo dire che la dinamica è una delle cose che mi ha impressionato di più e Roland tra l'altro mi ha spiegato che questa cosa della dinamica è data dal fatto che le pelli mesh Roland sono diverse dal solito perché sono proprio due pelli insieme e quindi in questo modo si riesce ad avere molta più sensibilità sulla pelle devo dire che non sono ancora riuscito a dare un colpo da non sentire diciamo il suono del rullante nel senso anche se io suono pianissimissimissimo che quasi non sento neanche di dare il colpo sul pad lui lo becca lo stesso e quindi mi dà un suono di rullante veramente super super piano oltre questo la figata anche di questa batteria è che avendo le pelli mesh e avendo la possibilità anche di girare tutte queste chiavette di ogni pelle possiamo rendere la nostra batteria elettronica molto simile all'acustica in quanto a feeling perché possiamo decidere di tirare di più rullante un po' di meno il tom, un po' di meno il tom 2 e poco il timpano in questo modo appunto il feeling e la sensazione che avremo sarà quella di suonare una batteria acustica per quanto riguarda i piatti allora a parte che c'è la possibilità di integrare poi un piatto in più un altro crash c'è già anche un cavo apposito per il crash in più quindi questo è una bomba e poi i suoni dei piatti sono veramente perfetti a parte il fatto di poterli stoppare e poter stoppare tutto anche il charleston e poi lo stoppato non è il solito stoppato che ferma il suono proprio in quell'istante finito in realtà lo ferma il suono ma come se lo stoppassimo veramente quindi non è la solita roba ma è stoppato giusto come succede nella batteria acustica ovviamente più suoni per ogni piatto quindi il crash può essere suonato sopra con due suoni diversi il ride può essere sia ride normale sia ride crashato charleston tutti i suoni che abbiamo bisogno normale con la punta con la pancia della bacchetta o aperto in più ovviamente il charleston passando alla questione piedi diciamo può avere il suono normale o il suono splashato oltre questo ci sono un sacco di pulsantini interessanti diciamo su questa centralina andiamo a vederne qualcuno per prima cosa questo qua che secondo me è una figata perché aspettate vi spiego un attimo qui ho schiacciato praticamente il coach il coach che cos'è? mo vi spiego perché qui c'è una roba che secondo me è una delle cose più belle di questa batteria cioè questa batteria per chi è pensata questa batteria è pensata un po' per tutti nel senso che può essere pensata per chi inizia ma vuole una batteria che già ha delle potenzialità super e suona bene quindi è super realistica è pensata per chi studia già da un po' di tempo ha bisogno di un kit elettronico e quindi ha bisogno appunto di una certa sensibilità dello strumento perché poi dopo un po' che si studia c'è bisogno di sentire la dinamica c'è bisogno di sentire le pelli non tutte tirate nello stesso modo eccetera 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 quindi è pensata per questi batteristi qua secondo me può funzionare anche per un professionista che ha bisogno di una batteria un pochettino più economica diciamo senza andare a spendere migliaia e migliaia di euro che però funzioni bene quindi io utilizzerei più che volentieri questa per studiare quando sono a casa in realtà la potrei anche portare ogni tanto live però detto questo funziona molto bene e essendo pensata in generale proprio per lo studio c'è tutta una sezione che si chiama coach che ci permette di studiare in alcuni modi diversi i modi sono 4 e adesso ve li faccio vedere allora il primo modo è time check time check praticamente come funziona noi diamo start e parte un click che cosa succede nel momento in cui parte il click? praticamente noi dobbiamo per prima cosa vabbè dirgli che velocità, quantizzazioni, ottavi, quarti eccetera 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 e poi noi entriamo a suonare sul click e lui ci dirà se siamo giusti o sbagliati se siamo avanti, se siamo indietro, che cosa sta succedendo e poi ci darà un voto da 0 a 100 vediamo che cosa succede ad esempio se suono un groove normale 1, 2, 3 94, vabbè non male proviamo adesso invece a vedere se faccio qualcosa in più del groove e basta che cosa succedo, già paura 1, 2, 3, 4 81, infatti ha detto ok, fraseggiato un po' di più e sei andato un pochettino più fuori tempo però questa è una figata perché può servire a chiunque per capire qual è il suo grado di bravura sul metronomo diciamo, quindi ottimo adesso andiamo avanti dopo il time check c'è quiet count quiet count praticamente funziona sempre col metronomo però il problema qual è? il problema è che ogni tanto il metronomo smette quindi noi dobbiamo continuare a cercare di andare perfettamente a tempo perché se no poi non siamo più a metronomo anche qui ci darà una valutazione proviamo dobbiamo fare un passaggio l'ultima malissimo in realtà sono andato alla prima 80 85 vabbè ci poteva ancora stare l'ultima 45 come dire, no, sei proprio fuori tempo, studia allora, poi time check, quiet count, auto, up, down e non ve lo faccio neanche sentire questo è praticamente un metronomo che sale di voi pian pianino quindi voi gli dite quanto tempo avete ad esempio 4 minuti sali da 120 a 160 e lui vi va pian pianino salendo questo serve soprattutto se voi state studiando magari un rudimento tipo il paradiddle e volete salire pian pianino di velocità lui vi fa questa cosa qua ultima cosa che c'è change up praticamente questo fa sempre partire un metronomo ma stavolta sarà il metronomo che modifica che cosa fa cioè farà prima, quarti, ottavi, terzine, sedicesimi quindi ad esempio facciamo un groove normale pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa e proviamo a stare dietro a ogni metronomo 1, 2, 3 in questo modo qua quindi non è niente male poi per il resto altri pulsantini questo è semplicemente il metronomo che parte o smette questo qua invece ecco qua kit instrument praticamente qui possiamo fare tutto quello che vogliamo prendiamo un pad a caso tipo rullante allora io ho il mio strumento che già posso cambiare posso in realtà mettere anche una cassa qua se voglio cioè posso fare quello che voglio io avevo brass snare che non troverò mai più eccolo qua adesso cosa posso fare? posso cambiare il livello poi posso andare a cambiare il pan quindi metterlo più a destra o più a sinistra posso cambiare il pitch cioè tuning che significa più alto o più basso di intonazione a me piace il basso forse troppo così ok poi muffling cioè il dumping cioè la sordinatura posso mettere off cioè niente oppure pian pianino andare su sentite che pian pianino è sempre più compresso a me troppo troppo compresso non piace ma magari un pochettino sì e sta roba si può fare anche sui tom troppo ovviamente però volendo posso mettergli un pochettino di sordinatura poi andando avanti posso decidere se la pelle del mio rullante farla coated cioè sabbiata clear cioè trasparente oppure anche pinstripe poi andando avanti ci sono poi i link dove possiamo linkare più il tamburo insieme eccetera 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 quindi questa è solo la parte instrument poi in realtà ci sono tutti i vari volumi i transienti che possiamo modificare possiamo andare a modificare l'attacco la release di ogni tamburo possiamo andare a cambiare l'equalizzazione di ogni pad se vogliamo andare a enfatizzare delle frequenze o togliere delle frequenze fastidiose possiamo decidere gli overhead questa è una figata overhead possiamo dire on off overhead poi possiamo decidere il tipo di overhead il tipo di microfonatura diciamo il livello eccetera 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 quindi ci sono veramente un sacco di cose fattibili e soprattutto la figata è che la prima volta che Roland su una batteria di fascia tra virgolette economica implementa una cosa del genere nel senso questo di poter sordinare ogni tamburo di andare a cambiare l'equalizzazione eccetera è una cosa che c'era sempre solo stata sulle batterie top level adesso c'è ed è fatta benissimo tra l'altro soprattutto è super semplice su una batteria molto più economica quindi figata pazzesca e soprattutto funziona da paura questa cosa ci può aiutare tantissimo adesso passiamo a una roba super 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 innovativa di Roland cioè questo pulsante qui questo è il pulsante del bluetooth nel momento in cui noi lo attiviamo andiamo a prendere il nostro cellulare questa qua è una bomba ragazzi adesso vi spiego tutto e rimarrete a bocca aperta praticamente bluetooth andiamo a configurare il bluetooth perfetto con il nostro cellulare vedete che diventa verde e adesso possiamo ascoltare le cose dal cellulare direttamente di qua ad esempio io posso andare su spotify e mettermi della musica oppure posso andare ad esempio su youtube cercare il mio video che ne so in cui parlo dell'octapad perché voglio vedermelo perché voglio suonare insieme a quello che ho fatto io nel quel video che ne so una cosa a caso eccolo qui e come potete vedere si sente tutto poi io posso alzare ovviamente il volume andando a vedere la figata di questa cosa qua ovviamente non è per guardare i video su youtube questo è un esempio a caso ma è che se io vado su spotify se io vado su una qualsiasi applicazione o se io ho della musica sopra il mio telefono posso sentirla direttamente dalle cuffie passando dalla centralina col bluetooth posso suonarci sopra e in realtà volendo io posso anche registrare come avete sentito l'audio che vi ho messo adesso da youtube dal cellulare voi l'avete sentito perché lo sto registrando con la Roland quindi voi potete poi decidere se registrare tramite cavo audio come sto facendo io in questo momento oppure se registrare direttamente dall'uscita usb che ha la Roland quindi con l'uscita usb voi entrate direttamente nel computer prendete un software qualsiasi per registrare ce ne sono anche un sacco di gratuiti e avete praticamente già tutto pronto per registrare eccetera questa è una bomba altra impostazione ad esempio su questo pulsantino questo è molto bello possiamo dire alla centralina che pad stiamo utilizzando perché magari noi abbiamo deciso di non utilizzare questi pad qui ma abbiamo qualcos'altro di attaccato abbiamo ad esempio un BT1 della Roland che sono quelli lunghi oppure abbiamo magari un rullante normale con una pelle mesh e un trigger quindi noi basta che andiamo qui sopra gli diciamo guarda che io ho messo un trigger e quindi noi gli diciamo ho messo il trigger andiamo a selezionare il pad giusto cioè la tipologia di pad che ci serve poi andando avanti ci sono tutte questioni midi eccetera 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 possiamo ovviamente fare il reset se abbiamo combinato troppi macelli e vogliamo tornare all'inizio e poi in generale questo è qui ovviamente abbiamo anche il volume che possiamo aumentare o diminuire a nostro piacimento e un'ultima cosa che voglio dire su questa batteria oggi vi ho detto veramente un sacco di cose ma perché ci sono un sacco di cose da dire su questa batteria è parlarvi un attimino di melodics praticamente melodics o melodics non so bene se si dica in un modo o nell'altro è un'applicazione esterna per ipad o comunque per tablet che però funziona perfettamente è perfettamente integrata con questa Roland TD 07kv o comunque ltd in generale praticamente è un'applicazione in cui noi se ci iscriviamo abbiamo la possibilità di avere 40 pezzi gratuiti che cosa vuol dire 40 pezzi gratuiti vuol dire che in pratica per ogni pezzo per ogni canzone facciamo così per ogni canzone abbiamo tutta una sezione che ci spiega come suonare quella canzone e come ce lo spiega in pratica attribuisce dei colori a ogni pezzo della batteria e ad esempio se io ho la cassa gialla e rullante rosso non lo so lui tramite dei quadratini diciamo che vanno avanti nel tempo mi fa vedere che cosa devo suonare e in quale momento quindi mentre passano questi quadratini diciamo io dovrò suonare la figata qual è la figata che non è che ti fa passare 63.000 quadratini tutti insieme perché ci sono più pezzi ma tu gli puoi dire io in questa canzone voglio suonare solo gran cassa e rullante per cominciare poi dopo vado ad aggiungere tutto il resto quindi vedrai solo questi due quadratini quello giallo e quello rosso che potranno essere pum pa pum pa perché passa una volta cassa una volta rullante ovviamente se ci sono due casse avremo due quadratini della cassa un quadratino di rullante la figata è che oltretutto ti dice anche se stai suonando bene o se stai suonando male così quando tu suoni in base al quadratino che hai visto ti dirà guarda che l'hai suonato bene o guarda che l'hai suonato male quindi funziona perfettamente anche però per una questione di timing ti dice se suoni bene o se suoni male un po' come il time check integrato sulla Roland prima ma all'ennesima potenza diciamo quindi questa è una bomba perché poi pian pianino hai capito cassa rullante come funzionano aggiungi il charleston poi pian pianino aggiungi tutti gli altri pezzi della batteria e sei a posto quindi Melodix è veramente super 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 figo per chi per chi magari sta cominciando soprattutto e vuole pian pianino avvicinarsi allo studio delle canzoni quindi super super consigliato quindi ragazzi io direi che con questo possiamo finirla qua per oggi spero che mi tolgo le cuffie togliamoci le cuffie che tanto non mi servono più spero che questo video vi sia piaciuto spero che vi sia servito spero questa Roland td07kv vi sia piaciuta io vorrei ringraziare strumentimusicali.net e Roland per avermi mandato in prova questo strumento pazzesco sono veramente felice perché è uno strumento nuovo uscito veramente da pochissimo tempo ma super innovativo nel senso ha veramente qualcosa da dire ha delle cose che sono super 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 fighe ragazzi ve lo assicuro io oltre questo direi che non devo dirvi nient'altro se c'è qualcosa ovviamente che mi volete ancora dire se qualcosa non l'ho detto mi sono dimenticato delle cose scrivetemeli qui sotto nei commenti mi raccomando scrivetemi magari anche se l'avete già provata se vorreste acquistarla questa batteria il perché eccetera scrivetemi come al solito un po' di cose qui sotto se siete del 78 del 60 non lo so più o meno quella roba lì per 100 che guardano i miei video ma non si iscrivono mi raccomando iscrivetevi che è importante ve lo dico sempre ma è importante veramente e con questo io vi saluto e vi ricordo due cose uno che tutti i link che vi servono ci sono qui sotto in descrizione quello di questa batteria quello del pedale eccetera 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 e oltre questo vi ricordo anche che c'è l'articolo sempre qui sotto in descrizione trovate l'articolo e ci sono scritte un po' di cose in più per completare questo video c'è l'articolo quindi oltre questo basta noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao